a fare ombra, Maino dall'altra parte ancora Maino prova a sbloccare i suoi e segna il 2-0 dal mercato scarica per Negro dall'arco che ributta la palla dentro il Custocamo non controlla Draghi ci interessa 7.30 da giocare il mercato allora spara sulla Firena con le mani di Draghi ci con Di Matteo Pro Campanelli di 8 metri 6 Campanelli da 8 metri Calabrese Backdoor di Draghi ci che appoggia il vetro 20 a 20 5 secondi e spiccioli da giocare Dello Jacopo 3 2 1 tira Dello Jacopo su la sirena e segna esplode il dubito del palla 9.50 Santero di Cormilano 7 secondi ancora per il nuovo per Torlobi per Calabrese che segna subisce il ballo davanti prova l'interno di volontà si gira palla dentro Sparengo però fa segnare il Cust da sotto Canestro Caramaino recupera Calabrese in qualche modo Draghi ci dall'arco segna si torna su parcheva subito il segno Chiotti 5 al 1 47 il Custolunga di nuovo Gallo Maino L'Olimpo deve rispondere Maino da 3 segna 3 PC Maino ancora Maino si prende il tiro e segna Maino ruota il ballo ancora Maino Dello Iacobo si prende il tiro subisce il ballo e segna carico per Calabrese Espagna da un metro dal canestro Cipessagallo Cipessagallo quadri in balto 5 6 10 9 8 7 6 5 4 3 stoppata di Calabrese ma l'arbitro piscagallo si lamentano tutti si dispera Draghi ci 2 secondi 8 decimi sul cronometro dopo questi due precedenti vediamo che si conferma affidabile per i suoi Sena al primo 64 64 attenzione nel secondo si può sbaglia al secondo 2 secondi 1 Maino da metacampo sbaglia e dei tempi supplementari al 4 9 sul cantero di Corneliano Maino ha protesa come un mattone nelle mani del Mercato Maino ci pensa dall'arco segna Lussano 7 16 Lussano dall'arco segna è sbagliato Maino che scarica per Maino non riesce a commettere fallo il custo non ha avuto della palla al Mercato commette poi il fallo Conti il Mercato che ha più 3 un attivo per lui a bersaglio e vince il Mercato il custorino tira sulla sirena con Conti e sbaglia però tutti i piedi però ci sono che sa che ero fa grande questa vittoria è pesantissima del Mercato nella corsa ai periodi si perda invece il primo è vero penso anche al secondo ma scordo lo scopo che è per il tempo fatto con il cane Mercato il primo posto veramente grazie per averci sentito dal Alba e dal Torino ciao a tutti alla prossima ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.